Ciao a tutti, oggi parliamo di wallet multi-signature o multi-sig per abbreviare e di come aumentano la vostra sicurezza all'interno del mondo di Bitcoin. Partiamo dal presupposto che su Bitcoin, perché una transazione avvenga, c'è bisogno appunto di un indirizzo a cui corrisponde una chiave privata. Adesso, per far sì che i Bitcoin contenuti all'interno di questo indirizzo, che possono essere ad esempio 10 Bitcoin, vengano sbloccati, c'è bisogno della chiave privata. Come potete vedere, in questo caso, per autenticare la transazione, per effettuare, per sbloccare la transazione, c'è bisogno di una sola chiave privata. Però, nel mondo di Bitcoin, esistono degli script che vengono chiamati multi-signature o multi-sig, la cui traduzione è multi-firma. E come funzionano questi wallet multi-signature o multi-sig? In un modo semplicissimo. Ovvero, per far sì che i Bitcoin contenuti all'interno di un wallet o su alcuni indirizzi del wallet vengono sbloccati e venga creata una transazione, c'è bisogno almeno di x di y chiavi. In che senso? Nel senso che possono esserci, ad esempio, cioè, devono esserci almeno 2 di 3 chiavi, oppure 4 di 8 chiavi, 5 di 6 chiavi, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, alla creazione di un wallet è possibile specificare quante chiavi servono per autenticare, per sbloccare i fondi contenuti all'interno di un indirizzo o di un wallet. Pensiamo a questa cosa in una maniera un po' più ampia. Proviamo a fare l'esempio di un'azienda. Quindi, un'azienda che è composta da CEO, quindi l'amministratore delegato, dal contabile e dal CDA, ovvero il consiglio di amministrazione. Adesso capite bene che, secondo le regole di Bitcoin, basterebbe in una normale transazione, in un normale wallet, almeno una chiave, cioè basterebbe una chiave per effettuare la transazione. Quindi il CEO, volendo, potrebbe sottrarre tutti i fondi dell'azienda. Con un wallet multisignature 2 di 3, per esempio, ci sono tre chiavi diverse. In questo caso, una appartenente al CEO, una appartenente al contabile dell'azienda e una appartenente al consiglio di amministrazione. Quindi, per sbloccare i fondi di questo specifico wallet multisignature 2 di 3, servono almeno due firme, due chiavi private su tre. In questo caso, il CEO più il contabile, oppure il CDA più il CEO, oppure il contabile più il CDA. Cioè, appunto, 2 di 3. E come potete capire, questa cosa qua non dà solamente sicurezza nelle aziende, ma possiamo applicare lo stesso concetto anche per i wallet singoli. Ad esempio, il mio personale wallet. In che senso? Nel senso che potrei creare, ad esempio, un wallet, per semplificare, 2 di 3, in cui, per far sì che vengono sbloccati i fondi di quello specifico wallet, servono due chiavi private che io tengo in posizioni, in location diversi, per aumentare la mia sicurezza. Quindi, se per esempio, questa stessa, non so, in questo caso, casa, ufficio e banca. Vabbè. Appunto, io metto le tre chiavi private su tre location differenti, e perché la transazione venga sbloccata, venga autenticata, vengono, appunto, sbloccati i bitcoin contenuti all'interno del wallet, serve che avvenga che un esterno venga in possesso di due chiavi. Quindi capite bene che questo aumenta la mia sicurezza, e aumenta e diminuisce anche il point of failure, diminuisce i rischi che corro se una di queste tre posizioni venisse compromessa. Questa cosa dei wallet multi-signature è sfruttata in maniera enorme da tutti quanti gli exchange nel mondo di bitcoin. Basti pensare che solo Bitfinex ha un wallet multi-signature 3 di 6. Quindi ci sono sei chiavi differenti, e ne servono almeno tre per autenticare il wallet, per sbloccare i fondi contenuti nel wallet. Quindi è una cosa importantissima che tutti quanti i business e le aziende che operano in questo mondo di bitcoin, ma anche di altre criptovalute dovrebbero fare, ma anche noi utenti singoli possiamo farlo, e forse dovremmo farlo, perché aumenta notevolmente la sicurezza dei nostri wallet.